Tra i santi e i morti non c'è una vera e propria distinzione nella cultura popolare, anche perché ognuno ha il suo santo. Abbiamo allora quei santi importanti, i santi audiutori, quelli che per delega divina possono guarire le persone, gli animali, Sant'Antoni, Abate e San Bovo ad esempio. Poi ci sono dei santi che sentiamo più prossimi, sono i defunti. Infatti nelle case contadine un tempo alla sera dei morti si preparava il piatto, il piatto preferito dal defunto e fuori della porta un secchio d'acqua, perché quello serviva per la processione dei morti. Questi ritornavano dall'aldilà e venivano a far visita nelle case. E ovviamente un buon bicchier di vino che non mancava mai. E poi nel Dì dei morti si dispensavano alle persone, ai compaesani, quello che offriva il periodo, pertanto zucche, castagne e soprattutto le fave, e fave dei morti. C'è addirittura una singolare processione delle genti beate nella Lessigna, donne belle davanti e con la corteccia sulla schiena che scendono in processione tenendo tra le mani una torcia accesa. È un arto umano!